E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividetelo con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, seguite Viola Press, ovviamente immancabile notizie, info, aggiornamenti sulla Fiorentina, seguite sempre Forza Viola e seguite anche il sottoscritto su tutti i social Instagram e Twitter. Allora vi invito a vedere se ve la siete persa la parta live del Venezia ieri ai playoff che ci siamo divertiti e gasati, vi invito a vedere i video sulla Fiorentina che ho fatto in questi giorni e attenzione, mentre voi state vedendo questo video sta parlando commesso in conferenza stampa. Voi non vi preoccupate che se i contenuti saranno di devastanza, se c'è la necessità di intervenire a commentare quello che ha detto commesso, farò un video nel pomeriggio e ne parleremo assieme, altrimenti se sarà una conferenza rutinaria ne parliamo tranquillamente domani e quest'oggi pomeriggio. Lascio spazio ad altro, in ogni caso vi avverto che questa sera alle ore 21 per abbonati intermedi il ritorno della cattufologia con video sulla questione Man in Black, quindi mi raccomando iscrivetevi, condividete, attivate il campanaccio, abbonatovi se siete interessati e andiamo con il video di oggi. Un video estemporaneo in cui io voglio dire la mia sulla questione allenatore, in cui utilizzo il mio canile per andare a rilanciare un'ipotesi di allenatorato della Fiorentina che è un po' latente, diciamo qualcuno fa il nome, qualcuno ne parla, qualcuno dice che può essere realistico, specialmente sentendo il discorso sugli allenatori stranieri che si fa in calce, in sede alla Fiorentina, secondo alcuni. Allora io dico una cosa, ammesso e non concesso che Sarri e Spalletti siano irraggiungibili per la Fiorentina, cosa che io comunque non credo perché come vi ho sempre detto, se si va con un piano, con una proposta, con un qualcosa di corposo, a mio avviso è possibile convincerli. Abbiamo, avremmo, avremmo avuto, non lo so, le nostre chance, ma se veramente questi due nomi non sono raggiungibili, è posto che comunque Gattuso, se viene alla Fiorentina, ha delle sue positività, assieme anche ad alcune cose che però vanno dette, perché anche adesso, leggo per esempio, vi do questa piccola pepituccia, sembra che il Napoli se va in Champions sia per merito di Gattuso, ma anche no. Cioè, avete letto la rosa del Napoli? Fabian Ruiz, Mertens, Sosimenzi, Elinsky, Manolasco, Libali, cioè non è che stiamo parlando, non è che stiamo andando a vendere le patate fritte alla posta, penso che sia dopo il Napoli di Maradona probabilmente questo è il Napoli più forte a livello di figurine, e mi viene da dire il più forte dell'epoca dell'Aurentis a livello di figurine. Nettamente la terza forza del campionato, a livello di alternative forse neanche più dell'Inter, quindi voglio dire, non è che Gattuso ha preso la Salernitana, l'ha portata in Champions, sta facendo un buon finale di stagione che andrà valutato con una squadra che però è forte. Detto questo, vi ripeto, anche Gattuso avrebbe dei suoi lati di interesse che sarebbero, a mio avviso, specialmente tattici per il modulo che vorrebbe fare, e via dicendo, ma vediamo se sarà lui l'allenatore della Fiorentina, nel frattempo io voglio andare a parlare di un allenatore che mi gaserebbe, che sarei contento di vedere la Fiorentina e che se venisse la Fiorentina sarei veramente curioso di vedere all'opera e sarei contento di quelli che potrebbero essere il suo portato, il suo lavoro. Sto parlando ovviamente di Paolo Fonseca. Paolo Fonseca è un allenatore che a livello di DNA calcistico, a livello di modo di fare calcio, si sposerebbe benissimo con la Fiorentina, che è tradizionalmente una squadra, un ambiente, una tifoseria, avvezza a fine al bel gioco, al gioco di possesso. Fonseca potrebbe trovare a Firenze un ambiente più tranquillo rispetto a quello di Roma, non tranquillo perché anche Firenze è una piazza calda, però sicuramente un ambiente più sereno e anche ben disposto rispetto a quello di Roma, secondo me. Lo vivrei come una sorta di Paolo Sousa di contenuto, come spesso vi ho detto anche nelle live. Un Paolo Sousa con anche maggior contenuto, magari un po' meno personalità di Paolo Sousa, perché un po' Fonseca a livello di garra, a livello di grinta, qualche difettuccio l'ha mostrato a mio avviso quest'anno, però a livello di gioco, a livello di proposta di gioco e soprattutto a livello di crescita della squadra e di crescita della Fiorentina potrebbe fare grandi cose. Non vi sto dicendo che se arriva Fonseca lottiamo per la Champions o vinciamo qualcosa, perché sono cose estremamente difficili da fare, vista la nostra situazione, visto il campionato, vista la situazione economica, ma io sono convinto che un Paolo Fonseca alla Fiorentina potrebbe preparare il terreno per, nel giro di due anni, due anni e quel che è, riportare la Fiorentina, far riaffacciare la Fiorentina alle zone europee, attraverso una crescita del gioco, attraverso anche la costruzione magari di una squadra, di una rosa adatta alle sue caratteristiche, alle caratteristiche del suo gioco, che potrebbe anche farsi senza spendere un patrimonio, perché comunque Fonseca e Reduce dà un'esperienza culminata con una non prosecuzione del rapporto alla Roma, ha anche fatto capire che gli piacerebbe rimanere in Italia, io penso che sarebbe anche ben disposto a venire alla Fiorentina, a non fare ma non avere a disposizione magari una squadra di primissimo livello, una rosa da mille e una notte, però magari andandogli a prendere degli uomini che possano sposarsi bene con il suo gioco, e puntellando la nostra squadra con giocatori adatti per la sua proposta di gioco. Penso che si sposerebbe bene con l'ambiente fiorentino, è comunque uno che porta dei sorrisi, della positività, penso potrebbe essere un buon richiamo per l'ambiente fiorentino e vi ripeto, mi gaserebbe anche perché per caratteristiche, per modo di fare calcio, è un allenatore che si sposa bene con quello che è, se così vogliamo dire, il DNA della Fiorentina. Oltretutto è anche un profilo internazionale, è comunque un allenatore che è arrivato in semifinale di Europa League con la Roma, è un allenatore che ha fatto bene con lo Shakhtar anche in Europa e in Champions, quindi io, se devo dire la mia proposta, ammesso e non concesso, se Sarri e Spalletti sono irraggiungibili, ma occhio a Fonseca, a me Fonseca gaserebbe alla Fiorentina, a me Fonseca gaserebbe alla Fiorentina. Vi dico, può essere anche che Gattuso, se viene, ottenga risultati migliori di Fonseca, non sto dicendo questo, lì bisognerà vedere squadra cosa, ma Fonseca mi gaserebbe di più a livello di incastro, a livello di chimica, a livello di interesse per quella che è la Piazza Fiorentina, paradossalmente a livello di caratteristiche avremo più bisogno di un allenatore di gara, di grinta, perché è un po' un'assenza storica a Firenze quella, la grinta, la mentalità è un po' un vulnus storico, quello ancora dei tempi e di Prandelli primo, di Montella e via dicendo, e anche prima, sempre stato un po' il problema quello della mentalità e della personalità e Fonseca non credo che riuscirebbe a colmarlo. Però abbiamo avuto anche ottime squadre nel recente passato che non brillavano per grinta, per garra, per spirito battagliero, però facevano un ottimo gioco, però avevano un'ottima proposta di gioco, ti divertivi, facevi campionati da vertice o quasi, e Fonseca si inserirebbe in quel solco, secondo me, nel solco tradizionale fiorentino di un allenatore di gioco, di un allenatore anche positivo, di un allenatore che troverebbe la sua piazza ideale in Italia in questo momento, perché se penso a una squadra nella quale Fonseca potrebbe, rimanendo in Italia, fare bene, rilanciarsi e rilanciare anche, è Firenze, è Firenze. Sono convinto che per mettergli a disposizione degli uomini adatti al suo gioco non servirebbe spendere un capitale, sono anche convinto che a Firenze ci verrebbe con la voglia di rimettersi in gioco, con la bocca buona, senza star lì a pretendere, a chiedere, a richiedere giocatori su giocatori e via dicendo, ma avrebbe uno spirito molto positivo. Quindi Fonseca a me alla Fiorentina piacerebbe molto, devo dire. Se si andasse su Paolo Fonseca sarei molto contento, cioè tra Rudy Garcia, per esempio, e Fonseca scelgo tutta la vita Fonseca e anche tra Gattuso e Fonseca, devo dire, pur riconoscendo che Gattuso avrebbe dei suoi pregi, che Gattuso avrebbe delle cose che mi interesserebbero, che Gattuso dal punto di vista della grinta e della mentalità sarebbe, per certi versi, quello di cui avremmo bisogno, Fonseca mi gaserebbe di più dal punto di vista proprio della chimica, degli incastri, delle caratteristiche proprio dell'allenatore in sé. Quindi Fonseca alla Fiorentina, ma per me è un grande sì, sarebbe un fomento, sarei contento, lo difenderei a spada tratta, segnalo questo nome, rafforzo questa proposta, gaso questa proposta, vi invito a riflettere su questa proposta e a valutarla, qualora Gattuso poi sia un qualcosa di difficile, o che non arrivi, o che non voglia venire, o che la Fiorentina voglia andare su altro. O se Sarri e Spalletti sono veramente così raggiungibili. Cosa che comunque io non credo, ma in ogni caso, se lo sono, Paolo Fonseca. Occhio a Paolo Fonseca, teniamo in conto Paolo Fonseca, pensiamo a Paolo Fonseca e un caro saluto.